Benvenuti, cari follower. Quindi, un avvertimento severo e urgente. Temporali molto forti colpiranno queste zone questa sera, domenica 2 giugno 2024, e tra poche ore, con il rischio di inondazioni. Ma prima di entrare nei dettagli, non farlo dimentica prima di supportarci premendo il pulsante mi piace per questo video per motivarci a continuare e fornire il meglio per te. Quindi, come vedete sulla mappa davanti a voi, le zone all'interno del cerchio rosso saranno esposte a temporali molto forti questo venerdì sera. Questi temporali inizieranno nelle regioni meridionali dell'Italia, in particolare nella regione Umbria-Abruzzo-Lazio, e poi raggiungeranno gradualmente l'estremo nord e saranno accompagnati da tempo molto brutto, con forti temporali e piogge. Pertanto, le zone interessate dalla pioggia questa domenica sera sono Umbria-Abruzzo-Lazio-Molise-Campania-Nord-Puglia-Basilicata-Liguria-Piemonte-Valle-Da-Aosta-Lombardia-Trento-Alto-Adige-Friuli-Venezia-Giulia-Veneto-Emilia-Romagna-Toscana. Infine, segnaliamo con forza il rischio di piene improvvise, il rischio di caduta di chicchi di grandine di medie e grandi dimensioni e ogni altra importante novità che cercheremo di comunicarvi in seguito.